Daniele del Moro è la sorpresa bellissima fatta ad Oriana Marzoli subito dopo la finale. Lui infatti è andato ad aspettarla davanti agli studi del GF e poi insieme hanno trascorso la prima notte d'amore insieme. A raccontare la notata infatti di passione è stata proprio la stessa Oriana che condivide via social alcuni video e foto direttamente dall'albergo in cui i due ex inquilini si sono barricati per la prima serata senza telecamere. Il primo video infatti di questa mattina alle 9 lei scrive sono le 9 e 15 di mattina e ancora non siamo andati a dormire perché stiamo parlando ci stiamo abbracciando ci stiamo baciando Daniele è tenero racconta Oriana non vuole andare a dormire perché mi vuole abbracciare. Come noto ragazzi i due si sono conosciuti nella casa del grande fratello ed hanno cominciato una specie chiamiamolo così tra virgolette di love story sotto l'occhio attento delle telecamere tra gioie e dolori. Lui poi è stato espulso lo ricordiamo benissimo causa proprio un atteggiamento contro Oriana e da lì finalmente questa notte sono riusciti a trascorrela serenamente. Si staranno conoscendo e sarà nata proprio una terza coppia nella casa del grande fratello chi lo sa lo scopriremo solo vivendo. Voi che cosa ne pensate? La sorpresa è stata bellissima questo dobbiamo ammetterlo e dobbiamo spezzare una lancia anche a favore di Daniele. Scrivimelo nei commenti, lascia il mio like se ti va e iscriviti al mio canale. Io ti aspetto come sempre per tanti altri prossimi video.